Marco Minidi, come sta? Ben trovato? Buonasera, buonasera, grazie. Che cosa ha pensato quando ha visto le immagini di quello che è avvenuto a Pisa, delle manganellate di Pisa, e che cosa secondo lei non è andato per il verso giusto? Cosa è successo? Ma ho pensato naturalmente che qualcosa non avesse funzionato quella sera. Partiamo dal fatto che stasera ha funzionato tutto, diciamo, e quindi la manifestazione si è potuta sfoggiare. Le tante manifestazioni di Pisa, di Pisa, di Pisa, quella di Pisa, quella di Pisa penso sia ancora in corso, quella di Pisa si è conclusa e quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo. Qualcosa evidentemente non ha funzionato. Dire questo non significa, tra virgolette, avere poca fiducia nelle forze di polizia, anzi esattamente l'opposto. Per una ragione semplicissima, perché in Italia, dopo la drammatica vicenda del G8 di Genova, le forze di polizia italiane hanno fatto una corsa per cambiarsi profondamente, hanno imparato la lezione e penso che in questo momento le forze di polizia italiane sono tra le più capaci al mondo di leggere una piazza, di saper dialogare con una piazza. Detto questo, detto questo, è evidente che a Pisa sono stati commessi degli errori e dire questo non significa attaccare forze di polizia. Ad esempio, quali errori? Ma vede, la sensazione che si è avuto, guardando un pochino le immagini, innanzitutto era che quella manifestazione era abbastanza controllabile, visto il numero delle persone che partecipavano. Non mi è parso di vedere un atteggiamento aggressivo, soprattutto venendo anche la composizione. La stragrande maggioranza erano giovanissime, alcuni addirittura minorenni. E vede, noi dobbiamo dire una cosa con grande chiarezza, in una democrazia il diritto a manifestare è un diritto sacro. C'è un solo limite che non bisogna mai valicare, è il limite della violenza. Poi si possono manifestare in piazza anche le posizioni più radicali, quelle più differenti da quelle che sono, tra virgolette, le opinioni dominanti. Coppione di democrazia e tutelare anche quelli che esprimono le posizioni più radicali, purché non pratichino la violenza. E secondo lei quei ragazzi non lo stavano praticando in quel momento? Non mi è parso che ci fosse un atteggiamento aggressivo. Il ministro Piantedossi ha più volte sottolineato che quella non era una manifestazione, che non si era preavvisata la questura del fatto che si sarebbe tenuta questa manifestazione. Ma questa può essere una giustificazione per le manganellate? Cioè, anche le cose, ammesso che ci sia un divieto, non è che se io prendo un ladro lo manganello, insomma, non è che un manganello che commette un reato, no? Guardi, la cosa migliore in questi casi è dare naturalmente notizie della manifestazione e soprattutto se c'è la richiesta di un dialogo da parte delle forze di polizia, come sembra ci sia stato, dialogare. Cosa che forse i manifestanti non hanno fatto? Così è stato ricostruito. Detto questo, tuttavia non è sufficiente il fatto che la manifestazione non fosse stata autorizzata per scioglierla con la forza. Perché la manifestazione si scioglie con la forza, appunto, se c'è un indizio forte di violenza. Peraltro faccio un po' di chiarezza, l'autorizzazione di cui si parla spesso, Zagrebelsky, il ex presidente della Corte Costituzionale, ha precisato su Repubblica che sotto il fascismo occorreva l'autorizzazione dell'autorità pubblica. Questo lo dico a beneficio di tutti noi, di me per prima, insomma, di noi che ho ascoltato a casa, di chi ascolta qui in trasmissione. Sotto il fascismo occorreva l'autorizzazione. L'esercizio dei diritti allora era subordinato al beneplacito del governo. La nostra Costituzione non prevede alcuna autorizzazione delle riunioni in un luogo pubblico, deve essere semplicemente dato un preavviso alle autorità. Dopo la pubblicità parliamo dell'altra tensione, dell'altra querelle, dopo le parole di qualche giorno fa della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulle istituzioni che, leggo proprio testuale, che penso sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a che ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, sulle istituzioni che potrebbero togliere appunto il sostegno alle forze dell'ordine. Tutto quello che sta succedendo da questo momento in poi. pubblicità e poi siamo di nuovo qui. Siamo qui con Marco Migniti, che è stato tra l'altro da sempre si occupato di sicurezza, è stato tra l'altro ministro dell'interno nel governo Gentiloni, dicembre 2016 fino al metà 2018, giugno 2018, quando è arrivato il nuovo governo. Anche durante il suo di Castero, insomma, le manganellate ci sono state, qual è agevole un ricordo, qui siamo al 29 settembre del 2017, si era a Torino, in occasione del G7 ci dovrebbero essere le immagini. Qual è la differenza fra quel tipo di intervento e quello che abbiamo visto a Pisa? Cioè, ci dovrebbe essere un tappeto? Grazie. Sì, se riesco a vederlo... Eccolo qui, sì, ora lo vediamo. Questi erano gli scontri appunto sempre a Torino in occasione del... Sì, lo so che è muto, no? No, ma non ci possiamo parlare sopra, però giustamente l'ex ministro voleva rivedere quello che stava succedendo in quella occasione, ecco. Sì, stiamo parlando del G7, un appuntamento particolarmente importante, che non casualmente si tiene anche quest'anno. All'epoca le manifestazioni complessivamente andarono nella stragrande maggioranza tranquille. E poi ci sono stati dei passaggi, in questo caso, se non ricordo male, erano degli attacchi particolarmente duri alle forze di polizia, anche perché le indicazioni, data allora, erano di avere una presenza particolarmente prudente. Penso che le indicazioni siano cambiate adesso? No, no, non è che sono cambiate. Il problema è esattamente questo. Vede, fare ordine pubblico è una delle cose più difficili di questo mondo. E per una democrazia, tuttavia, l'ordine pubblico è essenziale, perché nelle manifestazioni si manifestano i pensieri della gente. E insisto, anche i pensieri più radicalmente opposti, se praticati senza alcuna violenza, devono essere profondamente rispettati. Ricostruiamo quello che è accaduto subito dopo quella brutta mattinata. Il Quirinale emana questo comunicato, insomma, un tweet. Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno trovando una condivisione che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni, con i ragazzi manganelli esprimono un fallimento. Dopodiché arriva la nota di Fratelli d'Italia, che accusa la sinistra di essere la causa dei disordini. E poi Meloni, al Tg2 Post, poi la vedremo, dice appunto, penso sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra... Cosa ne pensa? No, penso che non ci sia stato nessun gesto di allontanamento delle istituzioni dalle forze di polizia. Ma Meloni con chi ce l'ha quando parla di istituzioni? Questo bisogna chiederlo alla Meloni. E secondo lei che l'ha detto se è fatto? No, a me sembra tanto spiegare una cosa. Non c'è stato nessun segnale di allontanamento. La telefonata del Presidente della Repubblica al Ministro dell'Interno non è un segnale di distanza, è esattamente un segnale di vicinanza. E si dice una cosa semplicissima, appunto, che bisogna garantire la libertà di manifestazione e che il segnale di un uso disinvolto del manganello può diventare un elemento che allontana un pezzo di opinione pubblica dalle forze di polizia. A sua memoria erano successi interventi di questo genere del Presidente della Repubblica? Che io ricordi probabilmente no. E tuttavia è un intervento che io considero tutto legittimo, che sta dentro le garanzie del Capo e dello Stato come espressione del punto di unità e di rispetto della Costituzione del nostro Paese. Ma secondo lei c'è uno scontro istituzionale in questo momento? Ma io al momento sinceramente non lo vedo. E penso che la cosa peggiore che noi possiamo fare è mettere le magliette politiche alle forze di polizia. Le forze di polizia sono un patrimonio del Paese. non di questo o di quella forza politica. Ecco, e lei nel fine settimana Fratelli d'Italia andrà a manifestare la solidarietà nelle stazioni di polizia e carabinieri in tutte le questure. Può essere un modo, cioè tirano un po' per la giacchetta le forze di polizia? Ma guardi, le forze di polizia sono una risorsa del Paese. Vede, il Presidente della Repubblica ha fatto un gesto particolarmente importante. Prima ha fatto quella telefonata al Ministro dell'Interno. Poi quando c'è stato l'assalto ad una volante a Torino che ha messo in pericolo anche l'equipaggio di quella volante, il Capo dello Stato ha chiamato il Capo della Polizia. e per dirgli la vicinanza e il sostegno del Capo dello Stato alle forze di polizia. Ha chiamato direttamente il Capo della Polizia che è, tra virgolette, un Capo Esecutivo. Non è un politico. È stato un segnale particolarmente importante, cioè che quelle parole andavano misurate per quello che dicevano veramente, senza voler alimentare in alcun modo una polemica politica. Mi dice una cosa su Vannacci perché le spiegole vengono dal PC, come tutti sanno, Partito Comunista, Bannacci, intervistato da Cazzullo sul Corriere della Sera, dice tra le varie cose questa frase. Marx diceva Proletari di tutto il mondo, unitevi. La prole si fa con un uomo e una donna. Stalin mise fuori legge l'omosessualità. Marx diceva che l'immigrazione incontrollata e clandestina sono l'esercito di riserva del padrone. Da ex dirigente del PC, come vede, questa rilettura del marxismo e dello stalinismo, che mi sembra anche un po' rivalutato in queste parole, o no? Sì, sinceramente, considerare Stalin una espressione della libertà e della democrazia nel mondo, nella storia, mi sembra un pochino esagerato. Vede, proprio in questi giorni noi siamo molto vicini al popolo ucraino. non bisogna mai dimenticare quello che è stato l'olodomor. E cioè, il fatto che a un certo punto ha fatto morire milioni di ucraini. Ha fatto morire milioni di contadini lasciandoli morire di fame. Ecco, considerare Stalin un modello di democrazia mi sembra un pochino esagerato. Ma lui non ha detto proprio questo, però insomma, comunque... non sento, posso dire, io che vengo dal Partito Comunista non sento alcun bisogno di parlare di Stalin o di rievocare Stalin. Se non per criticarlo, ovviamente, se non per condannarlo non solo criticarlo. Navalny, secondo lei le migliaia di cittadini russi che hanno sfilato, pur sapendo i rischi che correvano, aprono una strada, una speranza per la Russia? Assolutamente sì, è un segnale straordinario. Vede, 150 di quelle persone già sono state indagate, già ci sono le attività delle forze di polizia, il fatto che sia morto, che sia stato ammazzato, il principale esponente dell'opposizione è un dato drammatico che si riverbera sul volto di Putin, è un'offesa senza precedenti al principio di libertà e di vita. Vede Navalny era ritornato volontariamente nel suo paese dicendo quello è il mio posto e l'hanno ammazzato. Quelle migliaia di persone che hanno sfidato l'autorità di polizia, quella sì, un'autorità nelle mani di un autocrate sono un segno di fiducia e se mi consente di grandissimo coraggio. Ultime due domande veloci è di ieri in sera la bella notizia che Chico Forte come sappiamo Chico Forti italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio che lui dice di non aver mai commesso sarà sconterà la propria pena in Italia. Ci sono secondo lei l'ha dato l'annuncio Meloni ieri dopo la visita a Washington ci sono secondo lei possibilità anche per Salis? Lo spero davvero e spero che ci sia lo stesso impegno vede Ci sarà secondo lei? Io penso di sì perché di fronte al fatto che sia italiani un governo italiano sostiene sempre gli italiani. Altra domanda un giudizio su Piantedosi perché so che vi hanno recentemente sarei stati insieme mi ricordo dove insomma vi ero pure fischiato insieme e lo conosce Piantedosi ovviamente il ministro interno Molto bene Come sta operando secondo lei? Ma guardi Piantedosi è un buon ministro dell'interno non voglio dirlo per una ragione di partire soprattutto di amicizia personale nel senso che lo conosco da molto tempo vede mi sono occupato di queste cose come giustamente diceva lei da moltissimi anni ho incominciato a praticare questa materia esattamente 25 anni fa e all'epoca il ministro Piantedosi era un giovane funzionale di prefettura No per una ragione perché abbiamo condiviso una parte della nostra vita poi non la pensiamo allo stesso modo ma la bellezza sta in questo Viva le differenze non pensare allo stesso modo e non dovere diciamo criminalizzare chi non la pensa come noi altrimenti caro Miniti è fascismo o stalinismo ultima domanda la tod centrosinistra ha vinto in Sardegna sorpresa è per il centrosinistra un nuovo inizio o si sta sopravvalutando un fatto locale può essere un nuovo inizio nel senso che si trasmette un messaggio che l'alleanza più ampia non solo è competitiva ma può vincere poi speriamo che i risultati elettorali siano effettivi perché purtroppo e questo non è un segnale molto positivo per la nostra democrazia ancora oggi non abbiamo risultati definitivi di quello che è avvenuto in Sardegna incrociamo le dita ma in ogni caso l'idea che ci sia una competizione e un'alternanza credibile al governo se posso permettermi fa anche più forte è più credibile il governo perché c'è un'alternativa possibile e gli italiani quindi possono scegliere grazie a Marco Minniti diamo il benvenuto alla nostra coine è un grande piacere